Ancora alta la eco della questione de Orsa che ha infiammato questo brivio di primavera a Benevento. Gli esercenti sono in fermento, la rabbia si taglia col coltello e le parole dette ieri da Mastella, benché suggerite dalla mera presa di coscienza dello status quo, non sono state sufficienti per placare l'onda lunga della preoccupazione e del risentimento. Una vicenda che sembrava avviata verso una soluzione concordata e che ora, complice la intempestività del provvedimento stesso, ripiomba nel marasma in un momento che definire drammatico sembra davvero riduttivo. Abbiamo chiesto al presidente della Camera di Commercio di Benevento Campese quale sia l'impostazione dell'ente camerale in merito alla questione. Io penso che all'apertura bisogna concedere spazi pubblici, l'hanno fatto in altre città, quindi non ci stiamo inventando niente, in modo organizzato e consentire ai bar, visto che c'è il sole, c'è l'estate, di utilizzare un po' di spazio pubblico e è casante la propria attività per poter garantire la fruizione e il distanziamento. Mi sembra che su questo ci arriveremo. Mastella, fortissimamente Mastella, da quando ha riconquistato la centralità della scena, anche grazie all'emergenza in atto, ogni parola che proferisce diventa oggetto di discussione a volte di polemica, come per esempio la paventata chiusura del corso Garibaldi, liquidata come una butata da alvigi e da confesercenti, espressa senza specificare in che modo si intenda operare e che viene interpretata come un'astrusità, anche difficile da sostenere. Non si può, penso, chiudere una parte della città e tenere una parte o un'altra, perché non la vedo, come dire, una scelta intelligente e secondo me neanche perseguibile normativamente. Sono secondo me solo dei moniti per cercare di far avere una riapertura consapevole.